Ciao ragazzi, come avrete intuito dal titolo oggi parliamo di abitudini e proseguendo nella saga lo facciamo sempre attraverso il libro di Swamirama Yoga, la scienza sacra. Il limite delle abitudini che oggettivamente tutti noi abbiamo, chi più chi meno, è che appunto intorpidiscono un pochino l'attenzione, diamo le cose per scontate e quando cala l'attenzione allora cala anche la consapevolezza quindi corriamo il rischio di fare le cose appunto per routine perché si è sempre fatto così e non perché realmente sentiamo la voglia, il piacere, il desiderio di fare quella cosa lì e di farla soprattutto in quel modo lì. Ancora una volta la consapevolezza e il prendere in mano le redini anche nelle abitudini è fondamentale per vivere ma soprattutto per il vivere bene e quindi iniziamo a leggere e a commentare alcune delle pagine di Swamirama riguardo questo argomento. Prima di iniziare se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale, a te non costa nulla e per me fa la differenza. È possibile diventare consapevoli delle abitudini studiando la legge delle quattro fonti primitive. È un metodo molto pratico per capire se stessi. Studiando il regno della vita animale si scopre che tutte le creature che hanno raggiunto il livello della manifestazione, cioè tutte le creature che hanno un corpo e una vita, sono sottoposte a quattro pulsioni primitive e queste quattro pulsioni sono mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi. Queste pulsioni sono istintive. Tutti gli esseri viventi, animali, umani e anche vegetali sono sottoposti a queste quattro forze primitive. La differenza tra gli animali e gli esseri umani, in teoria, è che i primi sono completamente controllati dagli istinti. Al contrario degli esseri umani, essi però non si dedicano all'accoppiamento in qualsiasi momento dell'anno. Il loro comportamento sessuale è controllato dalla natura. Esiste un tempo prestabilito, ovvero una stagione per l'accoppiamento. Questo non vale però per esempio per gli esseri umani, che al contrario si accoppiano in qualunque momento. La differenza è notevole. Gli appetiti, le emozioni, i pensieri, le attività sono solo parzialmente controllate dalla natura. Quindi la differenza sostanziale, lui ci spiega che non tutte queste pulsioni sono controllate dalla natura, perché appunto nel regno animale sì, nel regno esseri umani invece no, perché per esempio la pulsione sessuale è una scelta, non segue dei ritmi imposti dalla natura. Questo poiché siete dotati del potere di discriminazione, di capire e di controllarvi. Attenzione, siete responsabili delle vostre azioni. Sottointende che è intollerabile, che è impossibile dire ho fatto quella cosa lì perché è la mia natura, perché non siamo degli esseri del regno animale, quindi non siamo degli esseri governati dalla natura, ma siamo degli esseri governati dalla mente. Questo sempre in teoria. Gli istinti esercitano un forte impatto sulla mente e sul corpo. È necessario imparare a gestire i problemi causati dalle pulsioni primordiali. Innanzitutto esaminate quali sono le vostre inclinazioni nei confronti di cibo, sonno, sesso e istinto di conservazione. Lo yoga ci insegna che è indispensabile regolare i propri appetiti. Quindi o siamo noi a controllare i nostri appetiti o diventeremo dipendenti dai nostri appetiti. Se decidete di osservare il modo in cui la mente gestisce il desiderio di cibo, potete iniziare a porvi alcune semplici domande. Quando avete fame, siete in grado di attendere? Se non mangiate immediatamente, come vi comportate? Per quale ragione mangiate? Siete consapevoli che il cibo influenza la mente e non soltanto il corpo? Esistono in commercio alimenti che sono stati sottoposti a numerose alterazioni durante il processo di lavorazione. Se qualcuno vi offre uno di questi cibi, provate il desiderio di mangiarlo o siete capaci di rifiutarlo? Sapendo che soltanto gli alimenti naturali e nutrienti giovano alla salute, pur non essendo a volte altrettanto invitanti. Il desiderio di cibo e i gusti acquisiti sono due realtà separate. Qual è il rapporto tra i vostri gusti e il desiderio di mangiare? Siete schiavi del senso del gusto? La schiavitù nei confronti dei propri appetiti sminuisce il valore del nutrimento. Cercate quindi di educare la mente a considerare il valore nutritivo della vostra alimentazione. Quindi non mangiare solamente per saziare il senso del gusto, per saziare il fatto di non morire di fame, o solamente perché un cibo, un alimento ha un aspetto esteriormente più buono, più più bello, ma proprio avere la consapevolezza di quello che ci stiamo mettendo in bocca. L'attitudine corretta nei confronti del cibo dovrebbe essere. L'attitudine corretta nei confronti del cibo dovrebbe essere. Per essere sani si deve seguire un'alimentazione sana. Semplicemente. Cercate di mangiare al momento giusto e soprattutto godetevi il pasto. Nella maggioranza delle antiche tradizioni, prima del pasto si recita una preghiera di ringraziamento. Questa usanza ha un significato ben preciso. I succhi gastrici e la saliva hanno un'importanza fondamentale per il processo della digestione. La preghiera offre l'opportunità di acquietare la mente e di cominciare a secerere la saliva e i succhi gastrici ancora prima di iniziare a mangiare. E quel momento lì di preghiera, di riflessione sul cibo, secondo me è anche un ringraziamento all'universo, ma anche a chi ha coltivato, prodotto e portato sulla mia tavola quel cibo, a chi ha cucinato quel cibo. E poi è proprio un momento di fermarsi, di riflettere, di stare e non mi siedo a tavola e comincio a mangiare affannosamente. E poi ci si lamenta di non digerire bene. Sin dalla prima infanzia sono stato educato a mangiare da solo e in silenzio. Personalmente le condizioni esterne non mi turbano, ne ho bisogno di essere sempre in compagnia, ma ho l'abitudine di mangiare in allegria, quindi anche se da soli coltiviamo l'abitudine di mangiare in allegria. L'allegria è essenziale, quindi imparate ad essere allegri, affinché la biochimica del corpo sia pronta a digerire il cibo. E ora occupiamoci della seconda pulsione che è appunto il dormire. All'inizio del mio addestramento, ci dice ancora Suami Rama, ho imparato a non dormire più del necessario. Come si può dormire in pace se si sa di dover raggiungere una meta precisa? Io non mi considero una sceta o un grande Suami, ma non riesco a dormire a lungo. Quindi lui ci dice siccome io ho un programma spirituale io non riesco a sprecare 12 ore al giorno a dormire perché io voglio raggiungere la mia meta, quindi come posso dormire? Nessuno riesce a stare al mio passo perché io so come riposare. Io riesco a riposare anche nella stanza da bagno, semplicemente sedendo. Dopo un riposo di 10-15 minuti mi sento rigenerato e riprendo con allegria a lavorare. Sarebbe giusto ridurre le ore di incoscienza imparando a controllare lo stato di sonno, imparare a dormire un sonno breve ma molto profondo. Quando avete troppo tempo a disposizione e andate a letto può accadere che non riusciate ad addormentarvi e allora nuocete a voi stessi perché non siete a conoscenza di alcune informazioni indispensabili per organizzare i vostri stati interiori. Imparando queste norme potrete avere un corpo sano e una mente giovane. Il sonno può essere controllato imparando l'arte del dormire bene. Se siete capaci di regolare il movimento dei polmoni avrete un sonno migliore perché una respirazione irregolare turba il sonno. Il moto irregolare dei polmoni influenza il nervo vago e il sistema nervoso autonomo. Alcune persone soffrono di insonnia perché la loro mente cosciente è sempre attiva e preoccupata. Vogliono dormire ma non ci riescono. Generalmente per addormentarsi sono necessari 10-15 minuti al massimo. Se si ha bisogno di più tempo significa che in realtà non si è deciso di dormire. Se volete dormire dormite. Se siete sicuri di voler dormire dovreste addormentarvi rapidamente e senza sforzo. Potete dire a voi stessi che alle 10 in punto dormirete. Quando desiderate riposarvi ordinate all'inconscio che adesso è il momento di dormire. L'abitudine secondo la quale si deve dormire quando si è stanchi non è corretta. Infatti quando sono molti o stanchi i bambini per esempio non riescono ad addormentarsi e piangono. Dopo aver pianto per un po' si addormentano. Ma non si addormentano perché il corpo è stanco ma perché hanno pianto a lungo. Il vero sonno profondo non dura più di tre ore e mezza. Cercate allora di stabilire la durata del sonno dicendo alla mente. Io dormirò per un'ora perché più tardi ho qualcosa di importante da fare. Questo è sonno volontario. Prima di andare a letto provate a decidere. Oggi dormirò sereno. E poi alle due e mezza farò quest'altra cosa. Alle tre sarò in meditazione. Domattina dovrò andare a lavorare. Io sono un membro della società e devo condividere il mio tempo con altre persone. Devo farlo o ho voglia di farlo. Non posso permettermi di trascurare gli altri. Ora però voglio riposare profondamente. Questa è una routine di condizionamento mentale che ci propone su Amirama. Tu fai la tua in base alle tue esigenze e ai tuoi impegni. Però inizia a disciplinare la tua mente anche da questo punto di vista. Chiedete a voi stessi di dare completo riposo alla mente e di svegliarvi ad una determinata ora dopo un bel sonno ristoratore. I primi tentativi probabilmente non daranno i risultati sperati ma col tempo avrete successo e il sistema della sveglia interiore triplicherà il vostro potenziale. Quindi non molliamo al primo tentativo non riuscito. Lui ci sta dicendo il metodo funziona garantisco io. Provate e non abbandonate. Date costanza, positività, quotidianità a questa pratica e allora darà i suoi buoni frutti. Quando entrate nel letto potete provare a creare una determinata atmosfera mentale. Dopo i piaceri del mondo è giusto godersi anche i piaceri del sonno. Quando manca il sonno tutti gli altri piaceri non hanno alcun valore. Il sonno tra i piaceri è il più elevato. L'ultima cosa da fare prima di andare a dormire dovrebbe essere un breve esercizio respiratorio. Quindi per condizionare i polmoni, per abbassare lo stress, per abbassare la tensione e riportare l'attenzione nel corpo. Si deve impartire alle preoccupazioni l'ordine di tornare a trovarvi la mattina seguente e dite loro di non venire a letto con voi e di non turbare il vostro sonno. Quindi vi sdraiate nel letto, iniziate a respirare e dite alle preoccupazioni state in salotto di là, in camera da letto le preoccupazioni non devono entrare, io devo dormire o voglia di dormire e poi le preoccupazioni saranno sempre lì ad aspettarvi domani mattina ma almeno avrò trascorso un sonno sereno. Se andate a dormire con la mente inquieta il sonno non vi rienergizzerà e se iniziate a litigare non appena vi mettete a tavola per quanto appetitoso possa essere il cibo, quel cibo si trasformerà in veleno. Un'attività sessuale motivata da pressioni relazionali non può essere fonte di piacere perché è una mente turbata, produce alterazioni nella biochimica del corpo. È molto importante mangiare in allegria, dormire in allegria ed avere rapporti sessuali in allegria. E arriviamo così alla terza pulsione primitiva che è appunto la sessualità. Poche persone conoscono cosa significhi realmente il rapporto sessuale. A molti aspetti esiste il sesso come atto, come parte dell'amore, come lussuria e come necessità. Si può vivere tranquillamente anche senza sesso, tuttavia la repressione sessuale non è mai auspicabile. Non si ottiene il controllo delle pulsioni sessuali astenendosi dall'attività sessuale. Il sesso è una delle pulsioni primitive e come tale deve essere compresa e regolata. Il sesso incontrollato può essere un ostacolo. Ma forse è un ostacolo, mi sento di dire io. Questo non significa però che bisogna imporsi l'astinenza sessuale perché così facendo vi trovereste a pensare al sesso in continuazione. E questo è un po' il concetto che, anche Siddhartha Gauta, ma aveva espresso quella volta che gli era stato offerto il latte dopo un suo lungo digiuno e lui lo accettò, invece che continuare a pensare al latte, mangio, mi nutro e non penso più al latte e posso tornare a meditare. La natura controlla la vita sessuale degli animali, ma non quella degli esseri umani, in teoria. Perché gli esseri umani sono più evoluti in quanto hanno una mente e possono capire che cosa fare e che cosa non fare. Gli esseri umani dovrebbero accettare e rispettare l'atto sessuale come un'espressione dell'amore. Tuttavia la totalità dell'espressione amorosa non è limitata al sesso. Il sesso è soltanto una parte dell'espressione di quell'amore fondato sull'uguaglianza e il partecipare a un atto che deve obbligatoriamente confortare entrambi i sessi. Anche in quel caso ci deve essere equilibrio. Se uno ha dei rapporti sessuali con tutte le persone che incontra e sviluppa l'abitudine di saltare da un partner all'altro, non riuscirà più a fermarsi e poi si ammalerà. Perché la mente ne risente. È un po' come se uno mangiasse in continuazione e fosse ossessionato dal cibo. Diventa obeso, si ammala e poi con tutte le conseguenze. Ugualmente se si ha una dipendenza da sesso o una qualunque altra forma di dipendenza. Può accadere che un ragazzo e una ragazza siano trascinati dalla folle idea che, nella vita, l'unica esperienza importante sia quella del sesso. Invece questa pulsione può e deve essere disciplinata. Gran parte delle relazioni si sfascia proprio a causa dell'incompatibilità sessuale. Nessuno ha colpa. Ciò che è certo è che le due parti non si capiscono. Comunicare e comunicare bene è indispensabile. Quando la coppia non trova un accordo nella vita sessuale, allora la relazione finisce. La scelta migliore consiste nel creare un ponte tra le due parti, costituito da molta comprensione e molta comunicazione. L'attitudine corretta dovrebbe essere quella di dare, non quella di prendere. L'arte dell'erotismo non è ancora veramente nota e questo è uno dei più grandi problemi del mondo. Eppure tutti continuano a fare l'amore, anzi la mente collettiva è concentrata unicamente sul sesso. Un po' la differenza tra sesso libero e liberi dal sesso. Ho già fatto un paio di video a riguardo e ne parlo anche nel mio libro Edoardo Cicconi. Due persone che convivono non dovrebbero interagire unicamente a livello fisico. Quando due persone pensano in modo simile, la loro convivenza è facile. A fasi alterne potranno certo vivere dei momenti di intesa e momenti di contrasto, ma ai fini della convivenza non si può essere sempre in disaccordo. Due persone che si incontrano e decidono di vivere assieme non potranno essere felici se non comprendono il loro posto nel mondo e il fine ultimo dell'esistenza. Diciamo che se non sei felice da solo, di certo non potrete essere felici in due. All'interno di una relazione, qualunque tipo di relazione, conviene sempre portare la versione migliore di se stessi, ma per portarla bisogna conoscere se stessi e lavorare, praticare costantemente per esserne la migliore versione possibile. Soltanto attraverso la via del tantra, che permette di diventare consapevoli delle due forze primordiali, cioè il maschile e il femminile, il sesso può diventare uno strumento di liberazione. A questo punto l'atto sessuale si trasforma in un'azione che avviene non tra uomo e donna, ma tra due principi divini, tra due divinità. Il tantra è un metodo che consente di trasformare l'atto sessuale in un gesto di adorazione. E questo è un concetto bellissimo del tantra, è il concetto base del tantra. Quindi non il sesso tanto per, o il sesso come passatempo inconsapevole, ma proprio come atto di adorazione dell'altra persona. Ma purtroppo il tantra in occidente è largamente frainteso, e anche di questo ne abbiamo parlato più volte. In occidente tantra è sinonimo di sesso, ma questa attribuzione di significato è errata e dannosa, aggiungo io. E ora arriviamo alla quarta pulsione che è il difendersi, inteso come istinto di conservazione, istinto di sopravvivenza. So che le informazioni già fin qui sono tante e che il video è un po' lunghetto, ma concentrati bene su questo ultimo punto e su questa cosa che ci sta per dire su Amirama. La pulsione più potente non è affatto il sesso. Di fronte alla scelta tra la vita e la morte, tutti voi sceglierete di proteggervi dalla morte, piuttosto che indulgere in un rapporto sessuale. La pulsione più potente è l'istinto di conservazione. Se non riuscite a comprendere l'origine delle paure, sappiate che ogni tipo di paura proviene proprio dall'istinto di conservazione. La prima paura, la paura primordiale, è proprio quella di perdere il corpo. Quindi la prima cosa che noi cerchiamo di contrastare è proprio questa perdita potenziale del corpo e i pericoli che potrebbero portarci a perdere il corpo. Però attenzione, perché la pressione delle paure impedisce di godere della vita. Paura che afferisce proprio al primo chakra, da dove origina la nostra energia vitale. Quindi se io non riesco a superare la paura, non con incoscienza ma con consapevolezza anche in questo caso. Quindi io so che esiste la paura, ma vado avanti lo stesso, non mi faccio congelare, bloccare o inibire dalla paura. Ora provate a porvi questa domanda. Di che cosa ho paura? Tutti i tipi di paure rientrano in due categorie. La prima è non avete fiducia di riuscire ad ottenere ciò che desiderate. La seconda categoria è avete paura di perdere ciò che avete. Tutte le paure potrebbero chiamarsi. Potrei perdere qualcosa. Potrei perdere il mio corpo. Potrei morire. Potrei non ottenere ciò che desidero. Che cosa mi accadrà? E domani che ne sarà di me? Eccetera eccetera. Per quale ragione però non dite mai a voi stessi che cosa sarà di me se domani sarò in buona salute? Che ne sarà di me se domani diventerò ricco? Che ne sarà di me se sarò generoso? Per quale ragione voi non pensate in questi termini? Paure, paure, paure e ancora paura. La paura esiste a causa dell'istinto di conservazione. È molto pericoloso però coltivare perennemente una paura senza mai esaminarla. Paura ma anche tutte le altre emozioni. È sempre bene esaminarle e avere chiaro perché si stanno presentando e che cosa hanno da comunicarci o che cosa noi non riusciamo a comunicare con loro. Non dimenticatevi mai che la paura invita il pericolo. Quando temete qualcosa non capite in realtà che state meditando negativamente su quella cosa e che state attraendo quella paura. Attrai ciò che sei. Spesso voi pensate e se questa cosa andrà storta e se quell'altra non funzionerà? In tal modo vi state preparando al disastro e lo avrete. Siamo noi stessi a creare i pericoli nutrendo le nostre paure e proiettandole costantemente. Non si deve avere paura. Gran parte delle paure si basano sull'immaginazione. Si immagina qualcosa e si finisce per temere il frutto della nostra immaginazione anche se questo qualcosa in realtà non esiste. La suggestione può manifestarlo. La paura invita ciò che temiamo. E concludiamo. Nella vita abbiate fiducia in voi stessi. La fiducia proviene dall'interno. In qualsiasi azione cercate sempre di agire con fiducia in voi stessi. La fiducia si manifesta quando si va alla fonte che corrisponde alla parte immortale dell'essere umano. Quindi all'anima, alla coscienza, all'unione col divino. Se non si è consapevoli della propria realtà interiore, se non si è in equilibrio, allora si vive nel buio della non conoscenza. Fiducia in se stessi significa avere fiducia nel vero sé di ogni essere vivente, ovvero la fonte stessa della vita e della luce interiore. Grazie ancora a Swamirama, grazie a te per aver visto il video fino a qui. Come al solito, commenti, annotazioni o qualunque altra cosa sono i benvenuti. Ci vediamo prestissimo con il prossimo video e fuori e dentro il viaggio continua. Namaste. Grazie a tutti. Grazie a tutti.